Chiaramente è molto sotto pressione anche nel settore bancario, non mi pare ancora il momento di pensare a rientrare per chi è fuori sul settore bancario o pensare di fare delle medie se qualcuno ha dei prezzi di carico abbastanza alti, cercherei di rimanere abbastanza alla finestra in questo momento perché temo che possa essere uno dei settori ancora penalizzati nelle prossime sedute, è meglio eventualmente focalizzarsi su titoli un po' più difensivi come ad esempio l'ha già citata Diasorin o eventualmente anche un titolo come Enel che può essere interessante da tenere nella propria watch list, ha perso tanto pure Enel, meno ad esempio rispetto ad Eni e dal punto di vista tecnico si è trovato quest'oggi a fare i conti con la media mobile 200 periodi che transita attorno ai 5,11 quindi può valere la pena diciamo quantomeno monitorarlo e valutarlo anche perché sotto ai 5,11 si è assoluto un altro supporto statico che è quello dei 4,99-5 euro praticamente. Grazie a tutti.